Ed eccoci al nostro appuntamento settimanale di informazione politica che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana che si è riunito recentemente nella seduta d'aula del 20 di aprile. E allora abbiamo estrapolato due argomenti, ecco i titoli. Parleremo del bilancio preventivo 2022 di IRPET. L'aula ha approvato la proposta di delibera con voto favorevole a maggioranza, ha approvato anche sempre maggioranza in ordine del giorno per assumere e valorizzare i ricercatori. Poi parleremo di mobilità ciclistica, più infrastrutture, sviluppo e condivisione. Una nuova legge resonale è stata approvata in aula con 23 voti a favore, 14 astenuti. Quindi si parla di ciclostazioni, di realizzazione di aree a priorità cicabe e soprattutto parcheggi. Come abbiamo detto dai titoli, via libera da parte del Consiglio regionale al bilancio preventivo ed economico per l'anno 2022, il programma di attività per l'anno 2022 e il programma triennale di attività 2022-2024 dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, ovvero l'IRPET. La proposta di delibera è stata approvata in aula a maggioranza con 22 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. Il bilancio economico di previsione 2022 presenta un risultato economico pari a zero, chiudendo pertanto in pareggio, così come richiesto dai principi contabili. Il valore della produzione ammonta 3.276.000 euro. L'entrata principale è costituita dal contributo istituzionale da parte della regione di 2.750.000 euro, a cui si accompagnano le risorse dei fondi europei. E' stato approvato anche un ordine del giorno collegato alla proposta di delibera che impegna di fatto la giunta regionale a attivarsi affinché IRPET sia messa in condizione anche di assumere nuovi ricercatori. E' stata respinta un ordine del giorno che impegnava a attivarsi affinché fossero adempiute tutte le procedure necessarie a garantire a IRPET di poter predisporre il bilancio primariale 2023-2024 sulla base di programma e risorse certe. Ecco appunto quello che è il commento da parte dei consiglieri. Io sono contento dell'approvazione del bilancio di IRPET, il nostro istituto di programmazione economica, che indubbiamente registra il prestigio che questo istituto anche in questi ultimi tempi ha saputo manifestare e ha saputo essere fonte di apprezzamento anche all'esterno della nostra regione. La capacità previsionale, lo vediamo in questi giorni, sul turismo, sui movimenti che da un punto di vista economico sviluppa la Toscana, grazie alla preziosa collaborazione di questo istituto, rendono la Toscana una delle regioni più virtuose nella capacità di presentare anche dati positivi, perché indubbiamente è proprio il riscontro di un risveglio forte del turismo nella nostra Toscana che ci fa sperare positivamente per il futuro. IRPET è un ente estremamente prezioso sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana in quanto svolge un'attività di ricerca, un'attività di consulenza per la regione che è particolarmente delicata e incisiva in alcuni settori strategici di governo del territorio. Le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla regione, un contributo consistente, al quale poi si affiancano diverse centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali, dei fondi nazionali e soprattutto dei fondi europei. Sul fronte dei costi IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale, oltre 2 milioni di euro. Tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca, sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza oltre che nell'acquisto di beni e di servizi come ad esempio le banche date sulle quali vengono costruiti poi modelli elaborati da IRPET. Apprezzamento da parte della maggioranza del Consiglio regionale nella consapevolezza di quanto finora è stato svolto da IRPET e quanto ancora sarà preziosa la collaborazione di IRPET negli anni a venire, soprattutto negli anni critici che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando del post-pandemia. Abbiamo votato a favore un bilancio di una struttura importante della regione toscana che fa analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e delle dinamiche che aiutano la politica a decidere. Un soggetto a servizio dei comuni della regione, soprattutto in termini quantitativi, riesce a rilevare quelli che sono i movimenti. Abbiamo chiesto di non fare soltanto un'analisi statica di quelli che sono la rilevazione dei dati ma magari anche di prospettarsi rispetto a logiche di previsioni andamentali di quelli che possono essere i flussi di cambiamento determinati da processi magari nazionali o internazionali come avviene in questo momento. Quindi un soggetto che fornisce mediante i propri ricercatori un supporto importante al decisore politico. Si è approvato il bilancio di previsione 2022 ma non quello pluriannale 2023-2024 perché di fatto manca il parere del collegio dei revisori. Quello che noi notiamo è che vi è un vizio di legittimità a riguardo proprio perché come dicono i sindaci e i revisori manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della Giunta. Quindi il Consiglio regionale ha votato l'atto riguardante IRPET ma con questi rilievi che sono stati fatti appunto dal collegio dei revisori ma anche dalla direzione tecnica. Per quanto riguarda IRPET è un bilancio che è strutturato su voci certe sia di entrata anche se si riduce il contributo regionale di circa 100.000 euro sia per quanto riguarda le uscite il costo principale rimane e quello per il personale. Anche però per quanto riguarda il personale devo ricordare come vi siano dei limiti normativi per l'assunzione del personale stesso perché per questo motivo si continua a ricorrere allo strumento delle consulenze esterne. Quando invece per noi abbiamo la necessità come Regione Toscana di dare agli istituti e tra questi IRPET che potrebbe essere particolarmente prezioso gli strumenti, le risorse, il personale. IRPET è sicuramente uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per fotografare con esattezza e con dati numerici alla mano la situazione economica, sociale, ambientale della Regione Toscana e ci dai mano quei dati per poter agire dal punto di vista legislativo nel modo migliore. La qualità di ciò che ha prodotto nel corso degli anni è sempre stata eccellente. Il problema naturalmente è politico. Se quei dati, se quegli strumenti si utilizzano per una qualità normativa ha senso continuare ad investire quelle risorse nel bilancio di IRPET altrimenti, siccome è avvenuto fino adesso, si tratta soltanto di strumenti che servono per lo studio, l'analisi, ma che poi non danno un effettivo riscontro sull'operato politico, tecnico e amministrativo, sono lettera morta. È un ente del quale anche da rappresentante di una forza politica di minoranza mi piacerebbe partecipare e votare in maniera propositiva e positiva sui bilanci e sulle linee guida. Purtroppo tutte le volte che arriviamo di fronte al bilancio arriva il bilancio e ci lascia delle situazioni fumose, delle situazioni poco trasparente che non ci permettono di votare. Quello provvisionale di quest'anno, del 2022, arriva, nonostante una relazione dei sindaci e revisori che dicono chiaramente che sia stato fatto in ritardo, arriva senza la pianificazione per gli anni 2023 e 2024, arriva con dei contributi dei quali non viene spiegato niente, 20.000 euro di contributi a IRPET da soggetti terzi. Per capire di cosa si trattava abbiamo dovuto fare un accesso agli atti ed emerge che è un contributo di 20.000 euro che arriva da Ferrovie dello Stato che non è proprio un soggetto terzo che non ha a che fare con le amministrazioni comunali, provinciali, regionali della Toscana. In molti comuni esistono dei contenziosi con Ferrovie dello Stato. Se Ferrovie dello Stato dà 20.000 euro a IRPET ci dica per cosa, per quale progetto, non ci sarebbe niente di male. IRPET ancora oggi fa la fotografia di quello che succede. Guardate, la fotografia di quello che succede, di quello che sta succedendo, non c'è bisogno che ce la faccia IRPET. Basta andare a giro, basta ascoltare i cittadini, basta andare a comprare il pane e capire che oggi il pane costa 4,10 euro, il latte costa 1,15 euro, fare la benzina costa più di 2 euro, che una semplice cofanettino di fragole costa 5 euro. Basta andare a giro e parlare con le persone per capire che la bolletta della luce costa il doppio rispetto a tre mesi fa e che la bolletta del gas addirittura nelle aziende è triplicata. Basta andare a giro e parlare con le persone, non importa la fotografia di IRPET e non importa mettere 2 milioni e 780 mila euro della regione toscana per sapere questo. Noi da IRPET vogliamo qualcosa di più. La fotografia ce l'abbiamo, ce la dicono i cittadini tutti i giorni. Noi vogliamo capire come reagire, dove dobbiamo andare, dove andranno le aziende, il comparto del tessile e il comparto del calzaturiero, chiuso il mercato russo, dove andremo ad approvvigionarci dal gas, chiuso il gas dalla Russia. Quali turisti verranno nella nostra Versilia e nella Toscana del Sud, visto che i turisti dall'Ucraina e dalla Russia non arriveranno più. Ecco cosa chiediamo ad IRPET e lo chiediamo perché quell'istituto di programmazione per noi ha un valore fondamentale se nell'analisi dei dati c'è anche l'individuazione di una prospettiva, naturalmente in collaborazione con Sviluppo Toscana, con Toscana Promozione, cioè con le agenzie della regione che parlano di programmazione, che parlano di sviluppo regionale e che parlano di dove portare le nostre aziende. Personalmente sono soddisfatta perché è stato approvato anche un ordine del giorno che era collegato a questo atto che mirava sostanzialmente ad impegnare la Giunta sul fronte dei maggiori assunzioni per quanto attiene la ricerca. IRPET, proprio perché la sua denominazione, diciamo a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società ma anche di istituti un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è rilanciamo questo istituto oppure ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Ricordo che noi siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo che è l'atto fondamentale per delineare le strategie future di Regione Toscana. Ecco, se riusciamo a fare sistema, a organizzare l'insieme di tutto ciò che è strumentale a fare una programmazione efficace, noi su questo non possiamo che essere favorevoli. Il Consiglio regionale approva maggioranza con 23 voti favorevoli e 14 astenuti la legge regionale che introduce nuove disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Per rendere più incisivo il raggiuntimento di specifici obiettivi di ripartizione modale aggiornare quindi la definizione di ciclostazione favorendone peraltro la realizzazione incentivare quella che è la coerenza con le disposizioni nazionali per lo sviluppo di mobility management promuovere il servizio di condivisione delle biciclette, il bike sharing la realizzazione di aree a priorità ciclabile di parcheggi nei pressi di luoghi pubblici di maggior interesse. Viene introdotta anche la possibilità per la Regione di sostenere i costi della manutenzione ordinaria fino al 90% dell'importo per quanto riguarda gli interventi anche di manutenzione. La nuova legge comunque prevede uno stanziamento di 1 milione e 60 mila euro per l'attivazione nel triennio 2022-2024, l'iniziativa legislativa del principale gruppo di maggioranza in Consiglio regionale. Lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione, noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a T la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente e anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. La Toscana deve porsi l'obiettivo di essere la regione più sostenibile d'Europa e per perseguire questo obiettivo deve lavorare anche in direzioni come quella che abbiamo appena approvato oggi. Questa è una legge che consente di migliorare le strutture nei comuni, che stanzia delle risorse a vantaggio degli enti locali e soprattutto prevede la possibilità di fare investimenti particolari, penso le ciclostazioni, penso dei manager che possono nascere nelle amministrazioni comunali finalizzati a favorire una mobilità sostenibile. Su questa frontiera si gioca tanto della qualità della vita delle nostre città e noi crediamo che questo possa essere un elemento importante che qualifica, che è green, che dà un miglioramento alla dimensione della qualità della vita dei cittadini e credo che i comuni possano e si stiano anche riorganizzando rispetto ai finanziamenti che il PNRR ha previsto rispetto a questa linea di finanziamento. Uno dei temi veri che riguarda soprattutto le grandi e medie città sono le stazioni che sono luoghi di scambio intermodale per eccellenza fra il ferro, la gomma e il trasporto pubblico ma sono anche in determinati orari del giorno e soprattutto della sera ricettacoli di situazioni non semplici che allontanano spesso e volentieri le persone dal frequentare i mezzi di trasporto collettivo e soprattutto la possibilità di scambiare anche con le ciclovie. In questo caso l'idea di introdurre le ciclostazioni, cioè i luoghi dove si possono naleggiare e anche lasciare in custodia o addirittura accomodare le biciclette è un'idea che noi sposiamo in pieno. Naturalmente va accompagnata, l'abbiamo detto, anche dal sostegno con altre attività commerciali che possano rendere appetibile per operatori privati prendersi la responsabilità di aprire o di gestire una ciclostazione. Cercavamo anche di allargare il discorso anche alle attività sportive visto che loro hanno approvato all'interno di questo emendamento e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica perché ad oggi, ad esempio, gli amanti del ciclocross, della mountain bike, delle BMX sono tutte persone che hanno l'esigenza anche di sviluppare la loro attività ecco, noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire non di attuarlo immediatamente ma comunque di inserirlo in un contesto che ritenevamo opportuno visto che il ciclismo è la seconda fonte a livello proprio numerico per quanto riguarda l'attività sportiva dopo il calcio perciò ritenevamo fosse opportuno iniziare a pensare anche a dei percorsi adatti a questi appassionati, agli amanti anche del ciclismo. E il nostro appuntamento di informazione politica si conclude qui dentro il Consiglio e vi aspetta come sempre tra sette giorni. Grazie a tutti